nel Vangelo di oggi leggiamo in verità vi dico se non vi convertirete non diventerete come i bambini non entrerete nel regno dei cieli perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli alla domanda dei discepoli chi è il più grande nel regno dei cieli Gesù non risponde direttamente ma compie innanzitutto un gesto un gesto simbolico chiama un bambino e lo mette al centro dell'attenzione di tutti diventare come un bambino significa percepire che il padre ci ama sempre e ci ama per crescere a diventare ciò che dobbiamo essere dei piccoli dei poveri dei beati che aspettano tutto dalla sua grazia questa umiltà attiva ha in dio la sua origine e deve stare alla base della comunità cristiana se Gesù si identifica con il piccolo chi vorrà ancora essere grande piccolo è colui che non conta colui che serve il primo posto nella comunità cristiana è riservato a lui l'autorità deve mettere i piccoli al primo posto nella sua considerazione e nei suoi programmi e tutti se vogliamo stare nella comunità cristiana che è il regno di dio che comincia devono diventare piccoli mettendosi in atteggiamento di servizio non siamo soli siamo di qualcuno siamo amati al signore noi interessiamo fino al punto che ha dato la sua stessa vita ma la vera prova del cambiamento del nostro vivere sta nella capacità di accoglienza non bisogna salire ma tornare indietro convertirsi discendere non sentirsi grandi ma farsi piccoli più la creatura si svuota di sé più si rende idonea ad essere riempita da dio la base di misura dei cristiani non è la grandezza o la potenza ma l'umiltà farsi piccoli a tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del signore